Per chi sceglie la Romagna, non solo il sole sulle spiagge, ma sta per cominciare anche la Notte Rosa. Ma lei è venuta per la Notte Rosa o per il sole? Per il sole e per la Notte Rosa stasera, dai! Un pienone come non si vedeva da tempo sulla riviera Adriatica, alberghi e ombrelloni esauriti nel weekend tutto rosa come la notte che i turisti si apprestano a vivere sino allo spuntare del sole. Che cos'è la Notte Rosa? È il capodanno estivo, vengono da tutto il mondo. Da tutto il mondo? Assolutamente sì, tutta Italia. Tutta Italia? Diciamo che quelli di Rimini sono tutti, tutti. Appena iniziato il mese di luglio, quindi speriamo che sia proprio un luglio e un'estate rosa, ecco. Allora, tu sei bianco, stasera potresti essere più o meno così, paonazzo. Allora sono ok per la Notte Rosa. Voi siete vestiti qui per qualche motivo? C'è un evento particolare? No, no, perché c'è qualche evento in giro? No, no. È di rosa? Noi ci vestiamo in rosa perché è il nostro colore preferito. Ah, ecco. Questa due giorni rosa per voi bagnini è diversa dagli altri giorni? No, esattamente no, è un weekend uguale agli altri. No, no, è un weekend uguale. No, no. No, no. Grazie a tutti.